Emergenza a rifiuti nei comuni del Basso Tavoliere, uno dei comuni più colpiti e sicuramente Orta Nova. Gerardo Tarantino, sindaco di questo comune, come la state affrontando questa emergenza? Ma potrei dire male perché sembrerebbe che da questa situazione di impasse non ce ne usciamo più. Stamattina per l'ennesima volta ci siamo incontrati tutti i sindaci e quindi tutti e nuovi sindaci presso il comune di Trinitaboli dove è stata fatta una conferenza a stamba. Che devo dire? Devo dire solo che è una fase molto delicata per questo territorio messo in ginocchio da questa emergenza di rifiuti. Noi siamo convinti di potercela fare, siamo d'accordo tutti e lunedì lo dimostreremo ancora una volta andando dal prefetto di Foggia per incontrare, ci auguriamo tutti, anche il presidente Emiliano o comunque qualche esponente politico pugliese della regione appunto. Faccio appello anche ai nostri politici e quindi mi riferisco al consigliere regionale Gian Diego Gatta, mi riferisco all'assessore Leo Di Gioia, mi riferisco all'assessore Raffaele Piemontese di essere presenti, di venire insieme a noi, semmai tutti insieme, a provare a trovare un'intesa per salvare la SIA e perché no sicuramente mettere a riparo i lavoratori perché loro amici sono veramente in questo momento le persone più care, ce la stanno mettendo tutta insieme a noi, si sono messi tutti in prima linea, sono veramente provati insieme a noi ma ce la stanno mettendo tutta. Noi cercheremo di andare avanti su questa strada, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ci è stato chiesto un impegno economico, lo abbiamo onorato, siamo sicuri, certi di potercela fare, però è chiaro poi torniamo ognuno nelle proprie comunità e troviamo queste montagne di rifiuti che francamente non fanno altro che metterci in difficoltà proprio vera e propria. Io vorrei solo spezzare una lancia anche nei riguardi delle opposizioni che per la verità in questa fase sono assenti, io mi sarei aspettato di essere tutti senza color politico a combattere, a difendere quella che è stata una società sempre solida per poterla portare avanti, per poter, ripeto, salvare questi posti di lavoro, per poter dar lustro alla città di Orta Nuova e a tutti i nove comuni che ne fanno parte.